scartalagarta scartalagarta mille accendini facci sognare ragazzi oggi uno scartalagarta misero c'era solamente questo qua oggi ma è un prodotto che comunque è interessante ho smirciato apertura e scartalagarta scartalagarta mille accendini ovviamente a fuoco non c'è ha messo a fuoco automatico mille accendini facci sognare scartalagarta 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 mille accendini facci sognare di che cosa stiamo parlando ragazzi stiamo parlando di adattatori per il vecchio iphone 4s ma esistono anche per il nuovo iphone che adattano da android vedete ad android fino a questo qua quindi uno che c'ha tutti i cavettini android ma ogni tanto carica qualche altra cosa nella zona ricariche mette semplicemente un po di questi siccome volevo farvi vedere vi faccio vedere una cosa che avevo comprato tempo fa che magari non ve l'ho fatta notare non l'ho scartalagarta eccolo qua per l'iphone quindi non ci avete mille cavetti in giro nella zona ricariche semplicemente mettete un po di questi che costano anche meno di un euro l'uno questi adattatori iphone iphone adesso vedete un po se mette a fuoco a fuoco a fuoco alessandro che sai il messaggio che stai mandando in codice pollice in su vedete questi qua allora voi dovete scrivere adattatori iphone android o iphone android adapter e cercateli sui vostri siti preferiti ebay aliexpress amazon e scoprirete che insomma è possibile comprarli veramente anche a pochi soldi eccoli qua comodi io nella mia zona carica sta qua le butto là un pochettino e così non mi capita mai di rimanere in imbarazzo con con le varie tipi di ricarica bene ragazzi oggi ho fatto un acquisto oggi mi sono comprato una biciclettina elettrica e quindi praticamente c'è un sacco di biciclette tutte funzionano tutte perfette non le posso usare tutte contemporaneamente e quindi alcune mi si è becchiata ma questa mi mancava una bicicletta con motore bosch non ce l'avevo mai avuta va bene ragazzi prossimamente tra una settimana vi farò l'unboxing della mia nuova bicicletta elettrica lombardo top di gamma ragazzi ho comprato grazie ai vostri mi piace ragazzi e adesso tra pochi minuti arriverà anche un video dove io spiegherò come guadagnare tanti soldi lavorando poco quindi se vedete questo video e volete basta che voi scrivete la guadagnare tanti soldi lavorando poco c'è una specie di video tutorial che vi spiega come fare ciao a tutti ciao ciao ciao